Il coronavirus è morto questa mattina nel reparto di terapia intensiva del Giovanni Paolo II. L'anziano saccenza è ricoverato nei giorni scorsi. Con questo decesso sale a sé il numero di saccenzi morti per Covid dall'inizio della pandemia. E Matteo Ruvolo, il nuovo sindaco di Ribera, ha vinto al primo turno conquistando anche per una manciata di voti il premio di maggioranza in consiglio comunale. Ha vinto il cambiamento, ha dichiarato il neosindaco al nostro Tg. Dopo dieci anni e mezzo lascia la guida della città di Ribera Carmelo Pace, sindaco per due mandati consecutivi. Ha sostenuto in campagna elettorale il candidato Alfredo Mulea, assumendosi ieri sera tutta la responsabilità della sconfitta. Sono 16 i consiglieri eletti a Ribera, 10 di maggioranza, 6 di opposizione. Tra questi Alfredo Mulea che entra in sala a frenna come miglior candidato tra gli sconfitti. La più votata, Aurora, liberto della lista. Ribera, viva la democrazia, viva la libertà. Ospedale, nuova protesta questa mattina del Comitato Civico per la Sanità davanti l'ingresso del Giovanni Paolo II di Sciacca. Sul tappeto i soliti problemi, le note criticità del nosocomio s'accenze. Terme di Sciacca, il centrodestra accoglie l'invito del Comitato Civico patrimonio termale, ma evidenzia noi sempre pronti a tutelare gli interessi della città. Italia è viva, chiede al sindaco un confronto con il governo regionale. Un cordiale saluto e ben trovati su Telemonte Cronio per un nuovo appuntamento con l'informazione. Un altro anziano di Sciacca è morto stamattina in un letto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Con questo decesso sale a sé il numero di saccenzi morti per Covid. Ieri c'era stato un guarito, ma al tempo stesso anche un nuovo contagiato. E i tamponi continuano ad andare a rilento. Sentiamo Massimo D'Antonio. Il 72enne è deceduto questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sciacca. Il sesto saccenze è morto dall'inizio della pandemia del coronavirus, il secondo della nuova ondata. Risaliva il 27 settembre scorso, infatti il precedente decesso, quello della donna di 68 anni. Anche lei per giorni ricoverata in uno dei quattro posti letto di rianimazione approntati al Giovanni Paolo II per l'emergenza. Deve giocoforza continuare ad essere di massima attenzione dunque la situazione riguardante la seconda ondata da Covid-19 sul territorio siciliano in generale, su quello saccenze in particolare. A Sciacca i numeri ufficiali, col decesso odierno, ma anche con la donna di 45 anni, risultata positiva ieri pomeriggio, lo stesso giorno in cui una 55enne veniva dichiarata guarita, finalmente verrebbe da dire, vedono nuovamente attestarsi su 46 il numero di soggetti tuttora contagiati. Neanche tra marzo e aprile, malgrado il primo focolaio scoppiato in ospedale, i numeri ufficiali erano stati così alti. Saccenze ricoverate in ospedale ce ne sono ancora cinque. Quattro di loro, tra malattie infettive e terapia intensiva, si trovano all'ospedale Sant'Elie di Caltanissetta. La quinta persona, invece, è ricoverata in un ospedale palermitano. Lo stilicidio di nuovi casi è continuato anche ieri pomeriggio, anche se più lentamente rispetto ai giorni precedenti. Si spera vivamente che la situazione possa normalizzarsi e che possano anche aumentare i guariti. Ma è un tema, quello delle guarigioni, che continua a suscitare perplessità, soprattutto perché a Sciacca, al momento, ci sono ancora almeno 200 persone in quarantena fiduciaria. Sarebbero numerosi tra costore soggetti che aspettano con ansia l'esito dell'ultimo tampone. Gente, in qualche caso, chiusa in casa da un mese e più. Tamponi, dunque, che vanno rilento. Un fatto che probabilmente chiarisce perfino che stiamo attraversando una fase molto più difficile di prima. Chi confida in comunicazioni tempestive sui guariti lo fa ritenendo probabilmente che i dati reali dell'ASP dovrebbero poter fornire un numero ben più basso di positivi. Ma è anche vero che con lo stesso metro di giudizio sia da presumere che i casi veri, magari asintomatici, che dunque sfuggono al controllo, siano più di quanto non si creda. E tra chi deve osservare la quarantena c'è anche uno degli ultimi casi, quello riguardante un medico trentenne che sarebbe stato protagonista di un falso positivo, ovvero sia di un tampone che avrebbe rivelato l'avvenuto contagio solo per errore come peraltro avrebbero rivelato i successivi due tamponi che hanno dato entrambi esito opposto. Per il servizio epidemiologia dell'ASP però devono rimanere in quarantena sia lui sia le persone a contatto con lui, familiari e pazienti, per un totale stando a quanto si apprende di almeno una quindicina di persone. E mentre si attende ancora che trovi concretizzazione al piano anti-covid studiato da Ruggero Razza, il fratelli Parlapiano di Ribera rimane assai lontano da essere trasformato in ospedale per la cura dei pazienti affetti da coronavirus, mentre è al Giovanni Paolo II che si sta pensando di aumentare il numero di terapie intensive degli attuali 4 a 10 posti letto almeno. In tutto questo rimane necessario oggi più che mai osservare in maniera ancora più rigorosa le norme sull'uso delle mascherine anche all'aperto, fatto questo che si accinge a diventare obbligatorio anche per decreto legge del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sulla necessità di scongiurare cerimonie e festeggiamenti vari perché davvero la situazione è decisamente critica. Ci spostiamo a Ribera. Matteo Ruvolo è il nuovo sindaco di Ribera, vinto al primo turno nonostante la concorrenza di altri 4 candidati aggiudicandosi anche la maggioranza in Consiglio Comunale. I riberesi hanno votato per il cambiamento, ha dichiarato il neosindaco al nostro telegiornale. Sentiamo. I festeggiamenti per Matteo Ruvolo, il nuovo sindaco di Ribera, sono iniziati nel primo pomeriggio nonostante lo scrutinio fosse ancora in corso. Sostenitori amici lo hanno accolto in corso Umberto davanti al suo comitato elettorale incuranti delle misure di prevenzione legate all'emergenza Covid-19 troppo presi da una vittoria al primo turno che probabilmente è andata oltre le aspettative. Con 4.894 preferenze, ossia il 42%, ha sbaragliato la concorrenza. Alfredo Mulè, pur sostenuto da sei liste di candidati al Consiglio Comunale, si è fermato al 28% avendo ottenuto 3.310 preferenze. 2.394 i voti ottenuti dall'ex assessore Francesco Montalbano che con il 20% del consenso si è piazzato terzo, non riuscendo però a far approdare in Consiglio Comunale nessuno dei candidati delle quattro liste che lo avevano sostenuto. Deludente risultato del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Rossello, appena il 6%, con 715 preferenze e di testimonianza, in termini numerici, la candidatura di Franco Auteri ha ottenuto il 2%, con 290 preferenze. Da ieri sera dunque Matteo Ruvolo, avvocato, ex consigliere provinciale, sposato e padre di tre figli e il nuovo sindaco di Ribera. Ha vinto il cambiamento, ha dichiarato ieri sera durante l'edizione speciale del nostro telegiornale con collegamenti in diretta dall'Aula Consigliare del Comune. La prima cosa che voglio dire è ringraziare tutti i riberesi, i riberesi che hanno accolto e premiato questa proposta politica basata su questo progetto, un progetto nuovo fatto da persone nuove, da una squadra unita, compatta, che ha saputo trasmettere messaggi positivi alla città, che ha incontrato tutta la città durante il periodo della campagna elettorale. Non è stata facile, soprattutto la vittoria al primo turno. Ci si aspettava un ballottaggio vista anche la forza delle altre candidature. Sì, sicuramente non c'era nulla di certo. In realtà poi nell'ultima settimana, facendo il porta a porta, nei comizi, negli incontri che facevo, vedevo lievitare sempre più l'entusiasmo intorno alla mia persona e a questo progetto, a questa proposta politica. Certamente non era facile, gli altri candidati erano candidati di tutto rispetto, sostenute da coalizioni forti. Ancora una volta ho colto l'affetto, la fiducia che i riberesi hanno posto in me. Spero di poterla ricambiare con un lavoro serio, che abbia rispondenze ricadute sulla città e per migliorare le condizioni di questa città. Non sarà facile, mi aspetta un impegno gravoso, sicuramente notevole, ma con tenacia, con determinazione, con costanza. Speriamo di lavorare cercando di fare il meglio di questa città, cercando di rilanciare la città di Ribera. A chi dedica questa vittoria? Ma io questa vittoria la dedico alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, ma la dedico anche a tutti quanti, ai tanti che mi sono stati vicinissimi, allo staff che mi ha seguito. Non finirò mai di ringraziare comunque i tanti riberesi che nel corso delle settimane mi mostravano con un sorriso, con una stretta di mano, la loro voglia di cambiamento e la loro fiducia nei miei riguardi. Dopo dieci anni Carmelo Pace lascia la guida della città di Ribera. In questa tornata elettorale non si è risparmiato e ha sostenuto convintamente il candidato sindaco Alfredo Moulet, arrivando ieri sera ad assumersi tutta la responsabilità della sconfitta. Ma sentiamo le sue dichiarazioni a caldo. Carmelo Pace è stato tra i più attivi sostenitori di Alfredo Moulet. La sua lista di candidati al Consiglio Comunale, Ribera, viva la democrazia, viva la libertà, è quella che nella coalizione ha ottenuto i maggiori consensi. Addirittura ha fatto il primo eletto con Aurora Liberto, 373 preferenze. Eppure Carmelo Pace ieri sera si è assunto in toto la responsabilità della sconfitta elettorale. Lo ha fatto durante la nostra diretta dall'aula consigliare. Se c'è un vincitore, in questo caso l'avvocato Ruvolo e la sua squadra, c'è uno sconfitto. Credo che lo sconfitto non è Alfredo Moulet, non è Montalbano, non è Rossello, non è Oteri, ma lo sconfitto sono io. Ha perso Carmelo Pace ed è giusto dirlo. Perché l'avvocato Ruvolo ha presentato un progetto di totale cambiamento rispetto all'attuale amministrazione comunale. Abbiamo cercato di presentare noi un progetto che non era la continuazione, ma evidentemente non siamo stati così abili. Quindi mi assumo io la responsabilità della sconfitta, nessun altro. Potrei avere una consolazione che è una consolazione magra, dire che la mia lista personale al momento, nemmeno a metà dello scrutinio risulterebbe la prima lista, ma è una consolazione amara e magra. Stiamo aspettando la composizione del Consiglio Comunale e io lo voglio ribadire. Il nostro candidato è una perla di galantuomo, senza nulla togliere né al nuovo sindaco né agli altri candidati. Ha pagato lo scotto inevitabilmente di avere me accanto. Io devo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'interno della coalizione, il senatore Ruvolo, l'onorevole Cascio, la Lega, gli amici di Roberto Di Mauro. Però evidentemente è passato il messaggio che il cambiamento si doveva fare e il cambiamento rappresentava qualcosa diverso da Carmelo Pace. Mi auguro che la città possa, ne sono anzi quasi certo, possa trarre dei benefici di questa nuova amministrazione. Certo, noi non staremo a guardare, svolgeremo il nostro ruolo di opposizione, useremo soltanto le armi della politica, ci tengo a precisare, e nessun'arma. Le armi della politica, del dibattito consigliare ed extra consigliare. Per Carmelo Pace ieri sera si è concluso un'esperienza ultradecennale, anni esaltanti e al tempo stesso difficili, come lui stesso ha ricordato. Ci sono due vicende che porterò nel cuore nella loro drammaticità. La vicenda di Via Fani, diciamo che ha pervaso la mia attività amministrativa dal 2012 in avanti, avere sgomberato 60 famiglie, trovare il finanziamento, poi le gare d'appalto che voi avete seguito che sembrava non finire mai, dover dare il contributo degli affitti a queste famiglie. Io mi auguro che l'Avvocato Ruvolo continui, seppur con un parere negativo degli uffici. Questa è una vicenda che io porterò sempre nel cuore e sarò felice soltanto quando queste 60 famiglie torneranno nelle loro case fatte di cemento vero. E l'altra vicenda, anche altrettanto drammatica, è la vicenda del Covid. La vicenda del Covid iniziata ai primi di marzo non mi ha fatto più dormire. Credo che almeno in questo abbia dimostrato di essere un sindaco all'altezza della situazione e che posso essere ricordato per aver salvaguardato i miei concittadini. Il nuovo sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, conquista per una manciata di voti una ventina circa il premio di maggioranza che consente alla sua coalizione di eleggere dieci consiglieri comunali. Il gruppo più numeroso è quello di Diventerà Bellissima, che avrà in Consiglio quattro rappresentanti, sei consiglieri di opposizioni. Tra questi, Alfredo Mulè, che entra in Consiglio come migliore candidato sindaco tra quelli sconfitti. In questo servizio, gli eletti al Consiglio Comunale e i voti di lista ottenuti dalle coalizioni. Noemi Tummiolo. Vediamo adesso, con l'aiuto della grafica, i voti di lista ottenuti dalle liste delle varie coalizioni. Coalizione a sostegno di Alfredo Mulè. Popolari e autonomisti 7,7%, insieme per Ribera 5,7%, futuro Ribera 0,7%, Lega Salvini 5,3%, Ribera di centro 8,6%, Ribera viva la libertà, viva la democrazia 12,7%. Proprio nel caso della coalizione di Alfredo Mulè, il dato che emerge è che le liste a lui collegate hanno ottenuto oltre mille voti in più rispetto ai voti ottenuti dal candidato a sindaco. Coalizione a sostegno di Francesco Montalbano. Lista Possiamo 0,1%, Ribera più 6%, Viviamo Ribera 4%, Intesa Democratica 2,8%. Coalizione a sostegno di Matteo Ruvolo, Forza Italia 8,2%, Fratelli d'Italia 5,5%, Diventerà Bellissima 11,3%, Matteo Ruvolo sindaco 9,6%, Generazione Futura 4,9%. La lista del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato a sindaco Vincenzo Rossello ha ottenuto il 5,5%, la lista Società Civile Ribera a sostegno del candidato Franco Auteri l'1,5%. Passiamo adesso all'attribuzione dei seggi. Popolari Autonomisti 1, insieme per Ribera 1, Ribera di Centro 1, Ribera, viva la libertà, viva la democrazia, due seggi. Nessun seggio è stato attribuito alle liste che sostenevano la candidatura a sindaco di Francesco Montalbano. Forza Italia 2 seggi, Fratelli d'Italia 1, Diventerà Bellissima 4, Matteo Ruvolo sindaco 3, Nessun seggio per la lista Generazione Futura. Nessun seggio per la lista del Movimento 5 Stelle e per la lista Società Civile Ribera. Andiamo adesso alla nuova composizione del Consiglio Comunale di Ribera che passa da 20 a 16 consiglieri comunali. Per il neosindaco Matteo Ruvolo il premio di maggioranza è scattato solo per una manciata di voti, una ventina, che consente dunque alla sua coalizione di eleggere al Consiglio Comunale 10 consiglieri. Gli eletti sono nella lista di Diventerà Bellissima Giuseppe Ciancimino 364 voti, Maria Grazia Angileri 338, Giuseppe Tramuta 320, Calogero Cibella 157. Per Fratelli d'Italia Giovanni Di Caro 206 voti. Nella lista di Forza Italia eletti Enza Mule 283 voti e Vincenzo Costa 247. Infine tre i consiglieri eletti nella lista Matteo Ruvolo Sindaco, Pietro Siragusa 348 voti, Elisa Ganduscio 218 e Rosalia Miceli 197. Fin qui la composizione della maggioranza. A sedere tra i banchi dell'opposizione saranno consiglieri solo della coalizione di Alfredo Mule, il quale entra in Consiglio Comunale come migliore candidato sindaco tra quelli sconfitti. Insieme a lui la minoranza sarà composta da Aurora Liberto 373 voti, la più votata, e Paolo Caternicchia 329, eletti nella lista Ribera Viva la Democrazia, Viva la Libertà, quella cioè che faceva riferimento al sindaco uscente Carmelo Pace. Riconfermato l'ex vice sindaco Nicola Inglese con 288 voti, eletto nella lista Popolari e Autonomisti. Riconfermato anche un altro consigliere uscente, Federica Mule, eletta con 207 voti nella lista insieme per Ribera. Per la lista Ribera di centro, eletto Giovanni Tortorici che ha riportato 265 voti. Nessun seggio, come si diceva, è scattato alle liste degli altri tre candidati a sindaco. E vediamo adesso i commenti dei candidati a sindaco sconfitti da Matteo Rubolo, rilasciati ieri sera a caldo durante la nostra diretta elettorale. Maria Genuarti. Dei quattro candidati a sindaco di Ribera sconfitti, soltanto Alfredo Mule entrerà in consiglio comunale. Così ieri a caldo il suo commento durante la nostra diretta elettorale. Delusione non ce n'è perché è stato anche un ottimo risultato il mio. Non è che c'è tanta gente che mi ha votato, tanta gente che mi ha voluto. Io sarò in consiglio comunale come il secondo sindaco più votato, quindi porterò avanti le istanze dei cittadini che mi hanno votato come consigliere comunale. Hanno tutti preso atto del risultato, anche gli altri candidati. Francesco Montalbano ha rivendicato di essere stato l'unico candidato a espressione del centrosinistra. A fronte di coalizioni che avevano dietro partiti, una campagna elettorale che ha visto presenti i leader nazionali, i presidenti della regione, mai visto in una campagna elettorale amministrativa un presidente della regione di Sischiera, tutti gli assessori regionali. Dall'altro lato sindaco uscente e una serie di deputati parlamentari, simboli dei partiti nazionali e dall'altro c'ero io con alcuni amici. credo che abbiamo fatto un risultato veramente eccezionale, di questo sono grato alla città perché è passato un messaggio di chiarezza, di competenza e di concretezza. Sperava almeno nell'ingresso in consiglio invece Vincenzo Rossello? Sicuramente è un'esperienza che mi porterò nel corso della mia vita, indubbiamente. Uno non fa una candidatura a sindaco ogni cinque anni, questo è chiaro. Ripeto, per me è stata un'esperienza importante, ho conosciuto tante persone, ho avuto diversi incontri con associazioni di volontariato, associazioni di categoria. Mi ha segnato molto, sicuramente è stato molto importante per me. Infine così, Franca Uteri ha commentato il risultato elettorale. Sicuramente per me, la mia città e la mia città, tutti mi conoscono qua, sono poche le persone che non mi conoscono per i miei trascorsi e quindi non ho mai perso nessun legame con la mia città. Poi quello che vogliamo fare, io l'ho detto, l'ho detto a tutti, a tutti i candidati da sindaco, Franco Terri viene qua assolutamente non per rompere gli schemi, ma viene qua per dare un'idea. È quella di cambiare la città, metterci l'amore, metterci il bene comune e mettere le persone giuste al posto giusto, come diciamo noi. Uno sguardo ai risultati delle elezioni amministrative negli otto comuni egrigentini chiamati al voto, soltanto i cittadini della città, dei templi saranno nuovamente chiamati alle urne per il ballottaggio fissato il 18 e 19 ottobre prossimi tra il sindaco scente Lillo Firetto e lo sfidante Franco Micciche. Riguardo i restanti sette comuni è già noto il nome dei nuovi primi cittadini. I dettagli in questo servizio. Giochi fatti in quasi tutta la provincia di Agrigento, negli otto comuni chiamati al voto alle elezioni amministrative per il rinnovo della carica del sindaco e del consiglio comunale, elezioni concluse nella giornata di ieri. Soltanto alla città dei templi gli elettori saranno nuovamente chiamati al voto per il ballottaggio previsto il 18 e 19 ottobre prossimi. Ad Agrigento Città a sfidarsi saranno Franco Micciche che ha ottenuto 10.506 voti, pari al 36,65%, risultato il più votato, ma non abbastanza da vincere a primo turno, e Lillo Firetto, sindaco scente che ha raggiunto 7.960 preferenze, pari al 27,76%. Per loro si riapre dunque nuovamente la campagna elettorale. Nei restanti sette comuni interessati dalle amministrative sono invece già noti i nomi dei nuovi primi cittadini. Come ormai noto, nell'Interland Saccense a Ribera e Matteo Ruvolo il nuovo sindaco, con il 42% dei voti, ovvero sia 2.606 preferenze. Con 763 voti, pari al 57,11%, Dario Gaio è il nuovo sindaco di Camastra, realtà che esce dal commissariamento che, seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale per ingerenze mafiose. Gaio, volto nuovo della politica, è riuscito ad imporsi sull'ex sindaco Angelo Cascià, che ha ottenuto 573 preferenze, pari al 42,89%. Passando a Cammarata, con il 52,25%, Giuseppe Mangiapane, appoggiato dal sindaco scente Vincenzo Giambrone, l'ha spuntata sull'altro candidato, Giuliano Traina, che ha invece ottenuto il 47,74% dei voti. A Casteltermini, Gioacchino Nicastro, con 2.166 voti, è il nuovo sindaco. E forse una prima volta, il Consiglio Comunale del Comune Grigentino sarà maggioranza femminile, ben 7 consiglieri su 10. Al secondo posto, Ripepe, con 1.552 voti. Per quanto riguarda la città di Raffadali, viene riconfermato sindaco Silvio Cuffaro, con il 64,59% dei voti, cioè 5.150 preferenze, mentre tutto lo mondo si ferma al 32%. A Real Monte vince l'assessore oscente Sabrina Lattuca, che diventa il nuovo sindaco, con 1.370 voti, pari al 46,73%, seguita da Putrone, con 1.255 preferenze. Infine, nel Comune di Siculiana, viene eletto l'ex segretario provinciale del Partito Democratico, Peppe Zambito, con 1.303 voti, pari al 43,98%. In generale, su complessivi 117.618 aventi diritto al voto negli 8 comuni dell'Agrigentino interessati alla tornata elettorale, sono andati alle urne in 69.435 elettori. Cammarata, si conferma il paese con l'affluenza più alta, ha raggiunto il 75,88% degli elettori. Non è andata male neanche ad Agrigento, dove si è registrato il 62,98%. La vicina Ribera ha fatto registrare un'affluenza del 58,09%. Sui 20.286 elettori hanno votato in 11.948. Il calo rispetto a 5 anni addietro è stato del 5%. Sono ancora tutte sul tappeto le criticità da cui il Comitato Civico per la Sanità di Sciacca ha tratto spunto per la manifestazione di protesta davanti all'ingresso dell'ospedale che oggi ha registrato il suo ennesimo appuntamento. Sentiamo. Tutte le criticità del Giovanni Paolo II, quelle che hanno indotto il Comitato Civico per la Sanità a promuovere la protesta dal titolo Riappropriamoci del nostro ospedale, sono tuttora sul tappeto. Così stamattina portavoce e coordinatore Cucchiare Giordano, sotto la lente di ingrandimento c'è sempre la questione primaria del trattamento dei casi Covid, in un uso comico che però è chiamato anche a gestire le altre patologie. Cioè un cardiopatico, uno affetto da male grave, che fa? Muore per i fatti suoi o noi facciamo in modo di garantire l'utilizzo, l'accesso ai presidi ospedalieri? Si è detto da parte di Razz e da parte di chi, diciamo, sottostà nell'ordine gerarchico che il Covid avrebbe riguardato Ribera. Allora la domanda che ci dobbiamo fare tutti in termini di responsabilità perché qua ci sono fatti che rilevano anche dal punto di vista penale che cosa è stato fatto per Ribera? Intanto noi abbiamo qua questa promiscuità, si registra oggi la morte di una persona ricoverata. Che senso ha avere detto che il Covid andrà a Ribera e non avere fatto nulla? Che cosa stanno facendo? Questo è il problema che noi ci dobbiamo porre. Le domande che il cittadino responsabile si deve porre, questa è la forma di controllo e di partecipazione per salvare la nostra democrazia garantendo il servizio in un settore fondamentale qual è quello della salute. Comitato civico per la sanità che è tornato a rivolgersi anche al commissario straordinario Mario Zappia con un documento in cui si chiedono tutte le risposte che ad oggi continuano a mancare. La ripresa dei contagi seguita dai ricoveri ci ha indotto a sollecitare un incontro urgente con il commissario dottor Zappia per avere dalla fonte diretta notizie sullo stato dell'arte per quanto riguarda la normalizzazione dell'attività non Covid dell'ospedale e gli adeguamenti necessari perché sia le persone in osservazione sia le persone affette, sintomatiche possano essere seguite presso il nostro ospedale perché non abbiamo ancora notizie se sono stati compiuti gli adeguamenti a punto di vista tecnologico, quindi tutta la strumentazione necessaria ma soprattutto il personale ausiliario, infermeristico e medico di quantità e esperienza tale da poter seguire adeguatamente questa patologia e questi malati che sono particolarmente delicati. Un ospedale che nei giorni scorsi per fortuna è tornato sotto i migliori riflettori per la trentesima donazione da parte della banca del cordone ombelicale delle cellule staminali che in questo caso serviranno a far guarire un bambino di due anni dalla leucemia. Questo è uno dei fiori all'occhiello dell'ospedale di Sciacca che lo ribadiamo ha avuto un destino diverso fino a pochi anni fa, azienda ospedaliera. Lillusaccio è stato un medico sicuramente animato anche al di là della professionalità da grande passione. Io ricordo che ho collaborato come avvocato all'interno dell'Avis negli anni 80 e già lui era conosciuto per l'attività svolta nel settore della donazione del midollo, della talassemia. Certamente la cosa più importante è il cordone ombelicale. E sicuramente questo va ricordato, è il frutto di una vivacità di questo ospedale degli anni passati. E non si è fatta attendere la risposta del centro-destra all'invito del Comitato Civico Patrimonio Termale. Siamo sempre pronti a portare avanti gli interessi della città di Sciacca, dichiarano oggi i consiglieri. I colleghi del gruppo Italia Viva sollecitano un confronto con la regione. Siamo sempre pronti a sostenere gli interessi della città e sull'annosa vicenda terme abbiamo sempre auspicato da parte dell'amministrazione comunale in carica il giusto coinvolgimento. Così il centro-destra saccenza in relazione alla volontà espressa ieri dal Comitato Civico Patrimonio Termale di coinvolgere il Consiglio Comunale di Sciacca nella battaglia finalizzata alla valorizzazione delle strutture termali. Ben venga l'iniziativa del Comitato, aggiungono i consiglieri di opposizione, annunciando che già questa sera la questione termale sarà posta all'attenzione del Consiglio in fase di comunicazioni. Fin qui dunque la risposta immediata alla sollecitazione pervenuta dal Comitato Patrimonio Termale, ma il centro-destra non manca di sottolineare come lo stesso Comitato, fino ad ora, si sia confrontato esclusivamente con l'amministrazione comunale. Sulla vicenda terme, scrivono oggi i consiglieri, abbiamo sempre e solo appreso dalla stampa le notizie, le novità e l'assenza di un fruttuoso confronto sulla tematica, non può assolutamente far dedurre che ci sia disinteresse da parte di un organo competente titolato democraticamente a trattare questa importantissima tematica. L'auspicio del centro-destra è che le dichiarazioni ieri del Comitato Civico Patrimonio Termale possano rappresentare l'inizio di un proficuo dialogo, pur nella consapevolezza del ruolo determinante di chi oggi amministra la città. Anche nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, sottolineano i consiglieri di centro-destra, il collega Monte aveva richiesto di fare comunicazioni sulla vicenda terme, richiesta poi in ritirata per agevolare l'analisi dei punti già all'ordine del giorno del Consiglio. L'interesse per le terme di Sciacca concludono c'è stato e c'è sempre. Intanto, il gruppo consigliare di Italia Viva ha oggi chiesto al Sindaco Valenti di sollecitare un confronto al Governo regionale. Un incontro alla Presidenza della Regione, alla presenza dei capigruppo al Consiglio Comunale di Sciacca, quello che propone Italia Viva, pur dichiarando valida e apprezzabile ogni altra iniziativa proveniente dai comitati civici. Inizieranno a breve i lavori programmati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la manutenzione straordinaria per il miglioramento di alcune strade provinciali del comparto Ovest, in particolare di quelle comprese tra i territori di Cattolica Eraclea, Ribera, Santa Margherita, Sambuca di Sicilia, Menfi e Sciacca. Stamattina, infatti, è stato firmato il contratto d'appalto della gara giudicata in precedenza dalla Commissione Orega dell'importo a base d'asta complessivo di 2 milioni e 59 euro. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l'impresa Calos Group SRL di Agrigento, con un rimbasso del 19%. Si tratta di un intervento progettato dallo staff tecnico del settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio di Agrigento, finanziato con i fondi del Patto per il Sud. Il progetto prevede, tra i vari interventi, posa di gabbionate per il consolidamento del corpo stradale e il drenaggio, costruzione di cunette e spallette in calcestruzzo, rifacimento delle sedi stradali deformate o usurate, realizzazione di segnaletico orizzontale e verticale, nuove barriere di protezione. I lavori dovranno essere eseguiti entro 455 giorni, a partire dalla data di consegna dei lavori. Iniziativa della Lega relativa al futuro dell'agricoltura in Sicilia. L'imprenditore di Burgio Ciro Miceli è intervenuto a Catania al convegno sull'agricoltura alla presenza del già ministro al ramo Gianmarco Centinaio. Durante l'intervento di Ciro Miceli, responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura e Allevamento Lega Sicilia, imprenditore agricolo e tecnico agronomo, ha esposto il suo progetto per il rilancio di questi due settori fondamentali e al centro dell'interesse di numerose aziende siciliane. Miceli ha esposto tutte le problematiche in atto, ha raccolto durante i molteplici incontri con altri imprenditori del settore e presentato le proprie idee in merito, soprattutto quelle relative al mercato e all'import-export dei prodotti siciliani di qualità. Adesso spazio ai consigli della libreria Mondadori. La matematica rivista come prassi politica e non solo come teoria è un formidabile esercizio di democrazia. Come la democrazia si fonda su un sistema di regole, crea comunità e lavora sulle relazioni. Come la democrazia la matematica amplia ma non nega. Studiando matematica si capiscono molte cose sulle verità, per esempio che le verità sono partecipate e pertanto i principi di autorità non esistono, che le verità sono tutte assolute ma tutte transitorie, perché dipendono dall'insieme di definizione e dalle condizioni al contorno. Svolgere un problema matematico è un esercizio di democrazia perché chi non accetta l'errore e non si esercita nell'intenzione di capire il mondo non riesce né a cambiarlo né a governarlo. Chiara Valerio tesse in un pamphlet polemico un parallelo tra matematica e democrazia, due aree che non subiscono la dittatura dell'urgenza. La matematica è politica, dichiara Valerio. Edito è in Audi. Apriamo la pagina dello sport. Automobilismo, piloti s'accensi i protagonisti allo slalom di Erice, tappa valida per il campionato nazionale e regionale. Tra i migliori piazzati di Matteo Bonavires e Muscar Nera. Sentiamo. Emozioni e tanti partecipanti al diciottesimo slalom agroericino. Gara valida come noto per il campionato italiano e regionale slalom. Manifestazione promossa ed organizzata dalla promoter chinizia di Giuseppe Licata. La gara è stata vinta da Emanuele Schillace sul Radical SR4. Al secondo posto Fabio Emanuele su Osella Alfa Romeo. Sul terzo gradino del podio invece Salvatore Venanzio, anche lui sul Radical SR4. Ancora una volta nutrito il numero di piloti di Sciacca al Via. Questi tutti i loro risultati attraverso le fotografie di Manuel Marino. Calogero Bellavia su Peugeot 205 si è classificato a terzo posto di classe A1004 e al quinto di gruppo A al termine di una prestazione di ottimo livello. Buon risultato anche per Gabriele Giaimo su Fiat 500, che si è piazzato quarto di gruppo E1 Italia e terzo di classe E1 Italia 1004. Antonino Di Matteo su Formula Gloria C8F ha centrato la quarta posizione di gruppo E2 SS, primo di classe E2 SS 1.6 e soprattutto un ottimo decimo posto assoluto. Ignazio Buonavides su Peugeot 106 gruppo N ha dominato vincendo sia la classe e sia il gruppo, dimostrandosi uno dei più forti piloti locali in circolazione. Giovanni Tornambè su Peugeot 106 gruppo N ha conquistato la quinta posizione di gruppo E di classe. Salvatore Catanzaro su Peugeot gruppo N, primo di classe e decimo di gruppo, e buona prestazione complessiva. Antonino Bellitti, anche lui su Peugeot 106, ha ottenuto la quarta posizione di classe N1004. Danilo Puleo, pure lui su Peugeot 106, ha centrato la sesta posizione di classe N1004. Lorenzo Buonavides su Renault Clio ha portato a casa la prima posizione di classe RS 2000 e sesto di gruppo Racing Start. Giovanni Muscarnera, infine, su Renault Clio RS, ha conquistato il secondo posto di classe RS 2000 Plus e quarto di gruppo Racing Start Plus. Ancora Sport riprende l'attività amatoriale per il ciclismo targato Asi Agrigento, con numerose società di Sciacca e di Menfi pronte a cominciare vari campionati, nel servizio anche arti marziali con Irene Marturano della Ippon Karate Lentini, convocata in Nazionale Azzurra. Vediamo. Ciclismo amatoriale Il Comitato Provinciale Asi di Agrigento ha colorato di rosa le città di Sciacca e Menfi in occasione del passaggio del gruppo e ha così salutato il 103esimo Giro d'Italia. Ciclisti amatori delle associazioni sportive Triskele Bike, Saraceni Bike, della nuova 100% Bici e Inicon Bike, tutte affiliate al Comitato Provinciale Asi, hanno atteso il passaggio domenicale della seconda tappa Alcamo Agrigento, con una ciclo passeggiata nelle due città, indossando le canoniche t-shirt rosa, piacevolmente accolte da tutti i cittadini. Gli appassionati sono stati guidati, come sempre, dal presidente di Asia Agrigento, Mario Cucchiara, che dà l'appuntamento per le prossime iniziative sportive. E passiamo alle arti marziali. L'atleta riberese della Lippon Karate Lentini, Irene Marturano, è stata convocata in nazionale e ha preso parte allo stage azzurro che si è tenuto a Giuliano, nel Napoletano. Marturano è stata convocata a seguito delle sue brillanti performance sportive, che l'hanno portata a vincere numerosi titoli ai campionati italiani 2019-2020 di Comitè, alla Youth League, agli European Championship, fino al recente Euro Cup Karate in Austria, dove ha centrato un argento e un bronzo. Con questo raduno la FIGILCAM settore Karate riprende le sue attività federali dopo la lunga pausa dettata dall'emergenza Covid-19. La quindicenne grigentina della Ippon Karate Lentini, insieme ai suoi compagni di team e al suo maestro Marco Lentini, non si sono mai fermati. Per Marturano l'obiettivo è la selezione per i campionati europei di Tampere in Finlandia, che si svolgeranno dal 12 a 14 febbraio, nella categoria cadetti fino a 54 kg. Seppure Irene sia andata sempre a medaglia ad ogni competizione a cui ha partecipato, nulla è ancora scontato e dovrà vedersela con tutte le altre convocate azzurre. Con le arti marziali si chiude il nostro telegiornale. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia, torniamo puntuali con gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Arrivederci.